potrebbe esserci un altro passaggio come dire duro forse sanguinoso nella storia dell'iran prima di arrivare a una gognata democrazia che purtroppo devo dire non c'è in nessun paese del medio oriente io abbia conosciuto e soprattutto i passaggi in questi anni di potere sono stati passaggi dolorosissimi in tunisia ben ali è caduto dopo 60 morti è stati morti a casserini ho visti per strada ma da 40 morti e dafi è costato 60 mila morti e poi altre decine di migliaia di anarchia di un paese che è diviso tra Cirenaica, Tripolitano e Fezzan e nessuno è riuscito ancora a rimetterlo insieme quella era la guerra degli americani dei francesi degli inglesi in Egitto abbiamo parlato in Siria dove sono entrati tutti i paesi del colpo tra cui anche il Qatar di cui si parla molto oggi per sostenere i gruppi isjihadisti contro Assad il paese è sbranato il Golan occupato dagli israeliani da 67 la Turchia occupa una fascia nord gli americani sono all'est ci sono dentro due eserciti stranieri che sostengono Assad i russi e gli iraniani i pazdarani iraniani quale dei passaggi che c'è stato in questi anni ha portato alla democrazia infatti io sono molto preoccupato per le sorti dell'Iran per le sorti attuali dei giovani che vengono uccisi ovviamente e tutti siamo indignati per questo ma sono preoccupato anche per il dopo io vorrei tanto che l'Iran potesse passare dalla ribellione di oggi a un cambio democratico ma purtroppo quello che mi ha fatto vedere la storia dell'Iran e la storia della regione in questi anni mi fa temere altri spargimenti di sangue